Prendersi cura del proprio sorriso è importante. Hai mai pensato a come proteggerlo? Mediolanum Capitale Sorriso è la nuova polizza di Mediolanum Assicurazioni per le spese relative alle cure odontogliatriche pensata per te e la tua famiglia. È la soluzione assicurativa che offre un ampio ventaglio di prestazioni, da esami diagnostici a cure di routine fino ad interventi più complessi. Puoi avvalerti di strutture convenzionate in tutta Italia all'interno del network OneNet di Aon, senza dover anticipare alcuna spesa. Al pagamento provvede direttamente Mediolanum Assicurazioni. Preferisci rivolgerti al tuo dentista? Anche se non fa parte del network, ti verrà rimborsato l'importo nei limiti indicati in polizza e se la prestazione non è tra quelle previste contrattualmente, ti viene comunque riconosciuto un rimborso con uno scoperto del 20%. Inoltre, per ogni assicurato aggiuntivo facente parte del nucleo familiare fino a un massimo di 4 persone, puoi beneficiare di uno sconto sul premio del 5%. Mediolanum Capitale Sorriso. Ogni sorriso è un capitale da proteggere. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su bancamediolanum.it